Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6, una chiesa piena nel rispetto delle norme anti-covid, quella che ha accolto stamani il feretro di Luigi Villamagna, lo studente 23enne di Vasto, morto a Parigi, investito da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali. Cordoglio e commozione nella parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo. I funerali sono stati celebrati da Don Gianfranco Travaglini, i familiari hanno chiesto di fare donazioni all'associazione Amici di Zampa, in ricordo di Luigi che amava molto i cani. Luigi Villamagna è morto la sera dello scorso 9 giugno, investito da una persona che non si è fermata a soccorrerlo e sulla quale pende un'accusa di omicidio stradale e di omissione di soccorso. Abbiamo pagina priorità per la città e grandi eventi, resta la freddezza tra i consiglieri comunali a Pescara di Lega e Fratelli d'Italia. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Restano freddi i rapporti all'interno della maggioranza del comune di Pescara fra i consiglieri di Lega e Fratelli d'Italia. Alla base dei contrasti le divergenze su quelle che sono ritenute le priorità per la città. Per la Lega oggi gli eventi non rappresentano una priorità, così come invece la manutenzione delle strade e i servizi al cittadino in un momento di crisi economica. Il processo di decisione sulle poche risorse che avremo a disposizione, che saranno oggetto di una variazione di bilancio, saranno comunicate dopo che l'intera maggioranza ha deciso come impiegare queste risorse. Noi riteniamo che buona parte di queste risorse debbano essere impiegate sul tema della manutenzione stradale, della segnaletica stradale, del decoro della città. Il che non vuol dire che non debbano essere impiegate anche per realizzare eventi, ma in questo momento riteniamo che la manutenzione della città sia prioritaria rispetto alle altre questioni, poiché la città di Pescara è comunque da qui a settembre piena, colma e stracolma di tanti eventi. Quindi siamo convinti che Pescara sarà attrattore e soprattutto attrattiva di tante persone per la mole di eventi pubblici e privati che ci sono in città. Il capogruppo leghista in comune a Pescara, Vincenzo Dincecco, non entra nel merito del lavoro dell'assessore ai grandi eventi, in quota Fratelli d'Italia Alfredo Cremonese, dicendo che fra due anni a giudicare saranno i cittadini. Il lavoro di questa amministrazione è un ottimo lavoro, perché su tanti fronti ci stiamo impegnando a risolvere problematiche a nostra, ma è altrettanto chiaro che in un momento come questo, in cui usciamo da una crisi finanziaria che probabilmente abbiamo parzialmente risolto con i 12 milioni e 4 della rata mutuo che riusciamo a recuperare, grazie al nostro impegno importante a livello di governo. Noi non possiamo non rilevare il fatto che ci sono delle priorità rispetto alla manutenzione della città. Io non giudico il lavoro di nessuno perché saranno i cittadini fra due anni a giudicare il lavoro di tutti noi insieme. Su questo siamo tutti convinti e siamo tutti d'accordo. Il movimento politico verde e popolare che si ispira ai valori della democrazia cristiana ha tenuto oggi a pescare la sua direzione nazionale presente l'onorevole Gianfranco Rotondi che in questi giorni sta presentando il suo ultimo libro intitolato La Variante DC. Vediamo il servizio. L'onorevole Rotondi in questi giorni lei sta presentando il suo ultimo libro La Variante DC. Perché questo titolo? Beh, ammicca alle parole tristemente di moda ma in fondo coglie un aspetto della democrazia cristiana che esattamente come un virus entra negli organismi altrui perché il libro sostiene la tesi per cui la DC non esiste più come organismo unitario ma tutti i partiti sono diventati un po' democristiani. E invece secondo me la democrazia cristiana sarebbe ancora utile al paese come partito, come idea portante, non come stile, come metodo, come linguaggio che è pure una cosa buona ma insufficiente. Una democrazia cristiana che sarebbe utile soprattutto in questo momento dal suo osservatorio cosa vede per quanto riguarda l'Italia ma anche l'Abruzzo alla luce delle ultime amministrative? Servirebbe un grande partito nazionale, cioè rappresentativo del sud e del nord, con un disegno di sviluppo dell'Italia esattamente come quando il grande e indimenticato Gaspari dettava le linee ricostruttive dell'economia abruzzese che poi si sono tutte realizzate. E questo cosa significa? Che un partito non determina una conseguenza economica ma può creare delle condizioni con le proprie idee, con i comportamenti dei propri amministratori perché l'economia stessa decolli. I cittadini sono sempre più lontani dai partiti e dalla politica? Oppure c'è un riavvicinamento secondo lei? I cittadini non sono mai stati tanto vicini alla politica, nel senso che la politica la fa è pur sempre una minoranza dei cittadini, tuttavia prima vi era una partecipazione più informata, c'erano gli analfabeti che seguivano i telegiornali al bar ma ne capivano di politica più dei loro pronipoti che stanno ogni giorno sui social ma leggono quello che la rete gli offre che non sempre è una informazione riflettuta sulle questioni politiche e più in generale sulle questioni serie. Presentato questa mattina al Parco della Scienza di Terramo la nuova edizione di Natura Indomita, 100 giorni di eventi che svariano dall'arte alla cultura all'enogastronomia. Il servizio di Stefano Recanati. Svelata l'edizione 2022 del Terramo Natura Indomita, un calendario ricchissimo che prenderà il via martedì 21 giugno per concludersi il 30 settembre con un evento a cura dell'Università di Terramo. 100 giorni di eventi che animeranno l'intero territorio della città dal centro alle frazioni. Tre big della musica Noemi Arisa, Filippo Graziani e Litfiba che a Terramo dovrebbero dire stop alla loro lunghissima carriera. Il Terramo Natura Indomita è nata dalla voglia di una comunità di rigenerarsi dopo la pandemia, dopo i momenti di difficoltà legati alle chiusure forzate dei luoghi della cultura. Sin dal primo anno ci siamo messi a servizio della comunità e delle associazioni del territorio. Abbiamo costruito questo contenitore, un contenitore che anno dopo anno cresce sempre più, diventa sempre più attrattivo, si consolida nella tradizione terramana e evidentemente richiama turisti ma soprattutto richiama la comunità terramana e quanti nel corso dell'anno fanno cultura nel nostro territorio. Sicuramente sui grandi eventi stiamo lavorando sui numeri del Natale della Mano, quindi su piazze che vanno a 5.000 persone, a parte i concerti di Arisa che sono seduti e chiusi per mille, però Litfiba, Noemi sono tutti concerti che lavorano sulle 5.000 unità. Ma poi sappiamo bene che, perlomeno per l'esperienza passata, che tante persone rimangono fuori, quindi per la città saranno dei momenti di festa. È come chiudere un cerchio per noi. Prima si parlava di un agosto dove Teramo era vuota, dove tutti andavano al mare, oggi vogliamo far vedere un'immagine della città di Teramo completamente diversa, piena di gente che si vuole divertire, quindi finalmente una vocazione estiva costruita e ottenuta. La grande novità è l'allargamento della Kermess anche a paesi al capoluogo collegati. Protagonista in questa edizione è il comune di Pietracamela che ospiterà il concerto di Roberto Vecchioni. Il concerto di Roberto Vecchioni che si svolgerà l'8 di luglio, venerdì sera, ai Prati di Tivo, credo intorno alle ore 18. Ed è una cosa molto bella, molto importante perché finalmente si può fare qualcosa che colleghi sia il capoluogo e sia il paese di Pietracamela nella fattispecie. Al parco Simon Bolivar di Notaresco arriva Abruzzo Sauro, un parco tematico con oltre dieci specie di dinosauri differenti. Vediamo il servizio. Aperto a Notaresco, Abruzzo Sauro, un parco tematico per ragazzi, bambini e famiglie che ospita oltre dieci specie di dinosauri differenti. I modelli sono realizzati in fibra di vetro e rappresentano fedelmente in scala 1 a 1 quella che era la fisionomia dei dinosauri, arrivando a toccare quasi dieci metri d'altezza. All'interno del parco ci sono sentieri che circondano i dinosauri accompagnati da colonne sonore di sottofondo che rendono il clima ancora più affascinante. È un parco che mancava nell'intera regione e saremo attrattivi su tutta la costa Teramana e anche oltre tutta Abruzzo, quindi siamo pronti ad ospitare i migliaia di turisti che vengono sulla nostra costa e tutti gli abruzzesi che vogliono venirci a farci visita. Cosa si potrà vedere? Diamo delle informazioni quando è aperto il parco e fino a che ora? Il parco è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 22 di sera e poi dopo ci sono dei totem all'interno del centro storico e tutti i visitatori potranno andare a fare, a scattare una foto e taggarsi sulla nostra pagina e ogni settimana chi riceverà più like vincerà un premio, quindi una maglia. Così per far sì che l'intero borgo sarà visitato da tutti i turisti, centinaia di turisti che verranno quotidianamente a farci visita. Ecco, sempre l'estate si parla sempre di sagre, di eventi per gli adulti e invece l'estate la vivono soprattutto i bambini. Assolutamente sì, dicevo io stamattina casualmente ho incontrato un mio concittadino di Francavilla che mi chiamava e gli dicevo cosa fa da questa parte di mio figlio appassionatissimo di dinosauri e quindi non ha voluto perdere questa giornata. Quindi sicuramente riguarda un target di interessati soprattutto giovani e giovanissimi che però fanno da traino per le famiglie che inevitabilmente dovranno passare una giornata qui se vogliono vedere questo splendido parco. L'amministrazione comunale di Avezzano si professa civica ma in realtà guarda al PD al centro-sinistra la fondo del consigliere comunale della Lega Genovese alla luce delle recenti dichiarazioni del segretario regionale del Partito Democratico FINA. Vediamo. Non si è fatta attendere la replica del consigliere comunale della Lega Tiziano Genovese alle dichiarazioni del segretario regionale del Partito Democratico Michele FINA che ha definito quella di Avezzano un'amministrazione civica con uno sguardo rivolto al centro-sinistra. La nota del numero uno abruzzese dei DEM diffusa a margine delle elezioni amministrative ha riacceso i riflettori su un possibile cambio di rotta del comune di Avezzano guidato dal sindaco attualmente sospeso Gianni Di Pangrazio, uno scenario che provocherebbe mal di pancia all'interno della stessa maggioranza composta da più elementi vicini alle aree di centrodestra, una spaccatura insieme al governo cittadino che peraltro non sarebbe una novità. Già alle ultime elezioni provinciali alcuni consiglieri di maggioranza avevano sostenuto Angelo Caruso del centrodestra a discapito di Vincenzo Giovagnorio, sindaco di Tagliacozzo, la cui candidatura era stata avanzata da Di Pangrazio con il suo Abruzzo al centro. Il segretario regionale del PD ha chiaramente detto quello che diciamo noi ormai da oltre 24 mesi che è un'amministrazione di Avezzano e un'amministrazione di centrosinistra nascosta in un fantomatico civismo ma che di civismo ha ben poco, continuano a sbandierare questa loro libertà, questo civismo che però oggi le dichiarazioni di FINA che mi sembra essere il segretario regionale del PD dice chiaramente che l'amministrazione del sindaco sospeso di Avezzano Gianni Di Pangrazio è vicina a passare con il PD. Il dato è oggettivo, abbiamo in consiglio comunale nelle file dell'opposizione una consigliera comunale del PD, vorremmo cercare di capire il PD che posizione ha, se vuole stare in ogni dove o se farà una scelta chiara ed evidente a sostenere come già fatto in passato perché al ballottaggio delle comunali di Avezzano ha sostenuto Gianni Di Pangrazio se questo matrimonio sarà ufficiale o se continueranno ancora a fare gli amanti. Si è concluso ieri sera a Silvi nel corso della Charter Night l'anno sociale 2021-2022 del Lions Club Atri Terre del Cerrano alla presenza del governatore multidistretto 108 Franco Saporetti e delle tante autorità a partire dal presidente della provincia di Teramo e dai sindaci di Silvi, Pineto e Montefino. Una serata celebrativa per il 36esimo anno dalla fondazione del Club Atriano per raccogliersi intorno alle numerose iniziative di solidarietà offerte a sostegno delle famiglie svantaggiate dell'Ucraina e delle forme di coinvolgimento dei giovani. L'anno sociale si è concluso con la consueta cerimonia del passaggio del martelletto tra il presidente uscente Antonino Orsatti e la nuova incaricata Patricia Giosuè. Vernissage questa mattina al Circolo Nautico di Pescara per la prima edizione di Cerrasuolo d'Abruzzo Cap che si svolgerà il 24, 25 e 26 giugno. Vediamo. Il tratto di mare a distante il porto turistico di Pescara ospiterà la prima edizione, la prima regata. Cerrasuolo d'Abruzzo Cap, presidente, come nasce questa iniziativa che coniuga, unisce sport, vini, territorio, marketing e turismo? Nasce dalla volontà che da tempo stiamo mettendo in campo di unire tutte quelle cose che ha appena detto, i nostri prodotti, con il nostro territorio, con la nostra comunità che in questo caso si esprime in un circolo di appassionati che ci hanno proposto un'operazione di co-marketing territoriale che a nostro avviso è assolutamente idoneo a valorizzare i nostri prodotti e l'Abruzzo. Per cui con grande, molto contenti di partecipare e abbiamo anche concesso il nome, c'era solo d'Abruzzo Cap, ci sembra veramente idoneo a valorizzare i nostri prodotti e l'Abruzzo. Il ruolo del circolano è quello di organizzare queste regate a livello italiano e già quest'anno vi dimostreremo che le barche non sono soltanto quelle di Pescara ma vengono dalle Marche, da Ottona, a Termoli e arriveranno qua. L'idea è nata da un incontro tra noi e il contrasto dei vini da Pescara. Abbiamo iniziato le trattative dell'estate scorso, finalmente siamo arrivati alla conclusione e poi la prossima settimana, 24, 25, 23, 24, 25, vedrete che cosa riuscire. Si svolgerà più tardi dalle 18.30 alle 23.30 la manifestazione Il Gusto della Solidarietà promossa dal Rotary Club Pescara Nord al padiglione Becci del Porto Turistico Marina di Pescara. Il biglietto ha contributo volontario, consente l'ingresso al mercato delle aziende agroalimentari e di ricevere il bicchiere per degustare i vini delle cantine abruzzesi e il ticket per il pasta party. Il ricavato sarà destinato al Rotary Campus che ospita per una settimana oltre 300 ragazzi e adulti con disabilità in una bellissima esperienza di condivisione e divertimento. Ed ora lo sport calcio. La prossima settimana sarà ufficializzato Alberto Colombo come neo allenatore del Pescara, un tecnico lontano dai dogmi e che si sa adattare all'organico. In rival adriatico cerca anche la svolta per la propria carriera. Vediamo il servizio. Conto alla rovescia per la firma sul contratto di Alberto Colombo. Sarà lui l'allenatore che guiderà il Pescara stagione 2022-2023. Un fatto certamente positivo è che Colombo, uomo del nord, originario della provincia di Lecco e dal temperamento mite, intraprenderà questa sua importantissima esperienza professionale senza dinamiche o ruggini pregresse che avrebbero caratterizzato un nuovo avvento di Zeman. E poi è un tecnico duttile, tutt'altro che dogmatico, fatto non secondario, visto che negli ultimi anni la società di Rado ha soddisfatto le pretese degli allenatori a inizio stagione. Auteri, che predirigeva il 3-4-3, non ha avuto una rosa completa per quella esigenza, ma lo stesso dicasi per Oddo e Zauri nelle due stagioni precedenti, con entrambi gli allenatori costretti più volte a cambiare assetto alla squadra per quadrare la situazione. Colombo, si spera, saprà adattarsi al gruppo che verrà fuori dal mercato. Lo scorso anno a Monopoli ha giocato una stagione intera col 3-5-2, ma nelle stagioni precedenti aveva impiegato la difesa 4 con più modi di sviluppare l'assetto offensivo, dal classico tridente al trequartista più due punte, oppure il cosiddetto albero di Natale con due trequartisti e un centro avanti. Il Pescara cerca riscatto e una stagione da protagonista, seppur con un organico mediamente più giovane. A Pescara, Colombo cerca la consacrazione per dare una svolta alla propria carriera che da nove anni si sviluppa in Serie C, molto al centro-nord, le ultime due annate al sud con le pugliesi Virtus Francavilla e Monopoli. Una volta ufficializzato lo staff tecnico, ne faranno parte il vice Giuseppe Padovano e il preparatore atletico Renzo Ricci, entrerà nel vivo il mercato per allestire l'organico che a metà luglio, probabilmente tra Palena e Poggio di Città Sant'Angelo, inizierà la preparazione estiva. In rival adriatico Colombo ritroverà, di rientro da Monopoli, quel Gennaro Borrelli che al netto di un infortunio che lo ha limitato a inizio stagione, ha allenato e fatto giocare nella seconda parte della scorsa annata, 16 presenze e 8 gol in campionato, 5 e una rete nei play-off. Sarà lui a raccogliere l'eredità del Loco Ferrari? L'attaccante argentino ha speso anche recentemente belle parole per Pescara come destinazione prioritaria in Serie C, ma è possibile che il Napoli lo riesca a piazzare in cadetteria, si parla della consorella Bari. De Marchi rientrerà per fine prestito e sarà valutato dal neotecnico al pari di Belloni che torna da Limulese. Al netto dei Baby, delle Monache e Chiarella, dell'attacco non fanno più parte per fine prestito Dursi, Rauti e Cernigoi, ci sarà ancora Clemenza che potrà essere funzionale da esterno e ancor più da trequartista. In casa Teramo invece si lavora per arrivare con la documentazione in regola per mercoledì quando scadranno i termini per presentare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Si punta a chiudere la stagione appena passata e poi ci si concentrerà sul futuro. Jacopo Forcella. Con il via libera la fideiussione assicurata da Iachini a distanza da una settimana dalla decisione contraria per il Teramo adesso, la garanzia con l'istituto bancario non dovrebbe essere più un problema e si può continuare a lavorare su tutto il resto, che non è poco ma almeno senza l'assillo di dover lavorare su due tavoli. La concentrazione è rivolta essenzialmente al reperimento delle risorse che servono per chiudere la stagione 2021-2022 dal punto di vista dei pagamenti. L'importo è rilevante ma la risposta del territorio c'è stata. L'ausilio è arrivato da dirigenti appassionati di calcio come Luciano Campitelli, Salvatore Di Giovanni, Silvio Brocco e Giuseppe Spirelli, che abruzzese non è ma poco importa, è indice del fatto che si cerca di salvaguardare a tutti i costi il patrimonio calcistico faticosamente difeso con le unghie sul terreno di gioco. Siamo nell'ultimo fine settimana utile prima della scadenza fissata per mercoledì. Da lì in avanti, qualora, come si spera, le cose andassero per il verso giusto, la preoccupazione sarà al futuro, ovvero alla stagione che tra poco parte, cominciando dal retivore estivo. Perché c'è una squadra da mettere su, uno staff tecnico da individuare, per farlo occorre scegliere chi nel ruolo di direttore sportivo possa essere quello che si troverà di fronte un annato, in ogni caso, di grandi sacrifici. Dopo lo sforzo per l'eventuale iscrizione ne servirà uno ulteriore per ricostruire e non sarà affatto facile. Maurizio Manfra potrebbe essere promosso al ruolo di direttore sportivo visto che ha già lavorato dietro le quinte nella seconda parte di questa stagione, proprio coi colori bianco-rossi. Avrebbe, di conseguenza, l'esatta percezione dei contratti in essere, una decina, e di quello che occorre per rendere il Teramo competitivo nel prossimo, futuribile girone B. Perché qualora arrivasse l'ok da parte della Lega mercoledì, è lì che sarebbe reinserito nuovamente il Teramo. Un raggruppamento che, fortuna per le abruzzesi, non vedrà nessuna retrocessa dalla Serie B, quindi con a disposizione un paracadute in grado di sostenere spese per il mercato, impossibili per le altre. Alessandria, Pordenone e Vicenza saranno nel raggruppamento A, così come il Crotone, in quello C. E questa è comunque una buona notizia. Il Teramo troverà le promosse dalla Serie D, Sandonato, Tavarnelle, Rimini e Re Canatese, e potrebbe scalare nel girone centrale il Fiorenzuola, che nel 2021-2022 era nel gruppo Nord. Rimarranno ovviamente il Pescara, oltre a Reggiana, Cesena, Ancone e Siena, oltre alla Virtus Sentella, le candidate principali a stare lassù. Poi il gruppone di Toscane, con i senesi a punto, e le avversarie di questa stagione, Carrarese, Lucchese, Montevarchi, Pontedera e la novità Sandonato-Tavarnelle. Il tutto sarà ufficiale dopo mercoledì. Fino all'ora, fiato sospeso in Casa Biancorossa, anche se alcuni indicatori virano verso il sereno. Sempre calcio, ma scendiamo tra i direttanti sulla situazione di stallo societario, che vede protagonista il notaresco. È intervenuto il sindaco Diego di Buonaventura, il primo cittadino, conferma di aver incontrato imprenditori del territorio e dentro lunedì potrebbero esserci novità significative. Ascoltiamolo. Sindaco, negli ultimi giorni si è parlato tanto di calcio a Notaresco. Prima le uscite sui giornali, poi la conferma tramite un comunicato stampa. Salvatore Di Giovanni fa un passo indietro e adesso la situazione a Notaresco com'è? Notaresco è che dobbiamo rifondare una società. Era una scelta che era condivisa, già si sapeva da un po' di tempo. Abbiamo fatto quattro anni splendidi a Notaresco, sicuramente tre meglio. L'ultimo anno ci ha creato un po' di conflitti interni, perché quando poi non arrivano i risultati l'attesa era tanta, abbiamo vissuto anche periodi difficili col Covid, abbiamo anche sognato un salto di categoria ed era quasi possibile, però dove andare così non ci siamo riusciti e adesso è quello che sappiamo. C'è tanto chiacchiericcio, io l'ho detto pubblicamente ringrazio il Presidente per quello che abbiamo fatto insieme a lui a Notaresco, perché sono stati anni belli. Adesso dobbiamo aspettare alcune decisioni e noi dobbiamo capire quale campionato riusciamo a gestire e a fare, perché perdendo il Presidente e anche il Vice che giustamente andranno in altri lidi, è normale che il budget inizia ad avere delle difficoltà, però dobbiamo fare quello che possiamo fare, che dobbiamo essere credibili, come sono stati in questi quattro anni, perciò ringrazio il Presidente perché abbiamo sempre onorato gli impegni con Tech, con staff e tutto quello che era, perciò che dobbiamo fare il campionato che Notaresco può gestire con la società, perciò noi stiamo cercando di formare una società nuova, aspettiamo un po' le decisioni più che le chiacchiere che si stanno adesso messe in giro, perché sapete che qui c'è Giulianova, c'è il Teramo, c'è Notaresco, altre società che si stanno muovendo per capire quello che si può fare, ma sono convinto che tra lunedì e martedì sapremo di che morte morire. Hai incontrato già qualcuno? Sì, ho rapporti belli con il Presidente, ci siamo visti, ho sentito anche altre società, perché Notaresco si muoveranno anche le decisioni di altre società, è normale che c'è attesa per il Teramo Calcio, dopo anche c'è stata un'uscita di sede del Presidente che ha detto il contrario di quello che aveva detto l'altro giorno per amor della città e perciò io sono convinto che lunedì e martedì il puzzle si inizia a completare, io cercherò di difendere la nostra comunità, perché Notaresco ha fatto calcio per tanti anni, è una storia del calcio, abbiamo fatto 4 anni bellissimi di Serie D e vogliamo continuare a scrivere una storia importante. Proviamo a fare una percentuale su cambiata di Serie D eccellenza, quale è la percentuale più alta e quale più bassa? Attualmente la più alta è l'eccellenza, se non troviamo nuovi soci è normale che è più semplice fare l'eccellenza che la Serie D. Io vi ricordo che a breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma Youtube oppure sul nostro rinnovato sito www.tv6.it I prossimi appuntamenti con la nostra informazione ITG delle ore 19 e delle ore 23, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6. Grazie a tutti.